Nella visita al Papa e al Segretario di Stato di oggi del Primo Ministro di Capoverde si è proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo sullo statuto giuridico della Chiesa Cattolica a Capoverde firmato il 10 giugno 2013. L'accordo riconosce le domeniche come giorni festivi, regola poi vari ambiti di comune interesse, quali la tutela dei luoghi di culto e delle celebrazioni, gli effetti civili del matrimonio canonico e delle sentenze ecclesiastiche in materia, garantisce le istituzioni cattoliche di istruzione ed educazione e l'insegnamento della religione nelle scuole, oltre all'attività assistenziale e caritativa della Chiesa. Stabilisce anche norme sulla cura pastorale nelle Forze Armate, nelle strutture penitenziarie e negli ospedali, nonché il regime patrimoniale e fiscale.